Per la partita sulla clinica privata a Chiaruccia, maggioranza 0, posizione 3. Anche ieri su questo delicato passaggio è andato in scena l'ennesimo rinvio, causa tre consiglieri di maggioranza contrari e due astenuti giustificati, tra cui proprio il paladino di questa battaglia sulla sanità privata a Fano, ovvero il sindaco Seri, anch'esso vittima di un virus stagionale. Malattie stagionali a parte, il centrodestra e i 5 Stelle non hanno dubbi interpretativi su questo andamento della delibera. Scasa tenuta della maggioranza e crisi interna sono lo specchio della verità. Quindi a dimostrazione che questa maggioranza non sta tenendo è il fatto che mentre i consiglieri di maggioranza come Luzzi, Severi e Serra si sono detti contrari all'approvazione della delibera per la variante per la clinica di Chiaruccia e con l'assenza del sindaco Seri per malattia e giustificato anche di Barbara Brunoli per lo stesso motivo, chiaramente se si fosse votato sarebbe andata sotto la votazione. Noi siamo sempre stati contrari alla costruzione della nuova clinica privata a Chiaruccia perché a nostro parere è semplicemente l'ultimo atto di un percorso che abbiamo definito perverso, che ha visto il depotenziamento dell'ospedale pubblico tutto a favore del nuovo grande mercato della sanità che si aprirebbe ai privati. Se sulle cause di questa Waterloo sanitaria c'è unione di veduta, diverse invece sono le interpretazioni sul dopo delibera. Per Lucia Tarsi assisteremo, se dovesse passare questa, ad un impoverimento della pubblica offerta come anche l'eccellenza di ortopedia. Sarà una privata situazione con un'ortopedia che sicuramente metterà in difficoltà l'ortopedia pubblica. Per Marta Ruggeri invece la speranza è che non si faccia in tempo ad approvarla e che comunque margini di manovra post elezioni ci sono comunque. Innanzitutto la mia speranza è quella che venga ritardato talmente tanto l'approvazione di quest'atto che alla fine non si faccia. Margine per fermare il progetto sicuramente c'è e lo si potrà fare soprattutto partendo dalla regione e quindi dalle elezioni del 2020. Grazie.